E' ormai collaudato ma per farlo funzionare c'è bisogno della collaborazione di tutti. Il piano neve, guardando al cambio del quadrometeo di oggi, sembra capitare a Fagiolo. A presentarlo in municipio la vice sindaco Fabiana Martini con tutti i soggetti coinvolti. Tra le novità già sperimentate in occasione del recente maltempo e la comunicazione anche attraverso Facebook e Twitter. L'utilizzo dei social media per dare e ricevere informazioni in caso di emergenza. Quindi invitiamo tutti i cittadini e le cittadine che sono presenti sui social o che hanno persone a loro vicine, figli, nipoti presenti su questi canali, a tenersi informati sull'evolversi della situazione, delle previsioni ma anche sulle decisioni che vengono assunte ad esempio dall'amministrazione per gestire l'emergenza. Previste anche nuove modalità di distribuzione del sale. Fino all'anno scorso il sale veniva distribuito attraverso le circoscrizioni, quest'anno invece premesso che ciascuno può dotarsi, anzi è invitato a dotarsi eventualmente di una piccola scorta di sale, è preciso che il sale da cucina è perfetto in queste circostanze, quindi non serve un sale particolare. A Cegas provvederà a posizionare in prossimità delle strade di maggiore pendenza dei sacchi di sale a cui si potrà attingere in caso di bisogno. Tra le altre prescrizioni troviamo le solite di buonsenso, spazzare il proprio passo carraio, il marciapiede davanti a casa, spargere il sale, tenersi aggiornati sulle previsioni meteo, usare l'auto solo se necessario, indossare scarpe sicure, se si può con i cosiddetti jazzini.